Musica e storia, il caso, per ricordare la strage in Ruanda, la fondazione Siotto sceglie un film che non piace all'ambasciata. La fondazione Siotto sceglie un film che non piace all'ambasciata ruandese. Lions nel territorio hanno all'incontro dell'associazione volontaristica Lions tra il verde del parco di Monteclaro. Torna Logos, ritorna sulla nostra emittente la fortunata serie del format Logos de Logu. Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione da Telecosta Smeralda. Al centro del nostro notiziario la questione sulla continuità territoriale. Come sapete, il nostro governatore Cristian Solinas ha incontrato il ministro dei trasporti Toninelli proprio per parlare di continuità. E c'è stata una proroga della continuità di Alitalia, stabilita appunto contrattualmente con Alitalia, che era ferma al 17 aprile. E' stata prorogata, ma Alitalia, la compagnia che ha preso le veci di Meridiana, non ci sta. E il sindaco Settimonizzi di Olbia scrive una lettera a Solinas. Cristian Solinas ha convocato per il lunedì prossimo a Villa Devoto i vertici di Alitalia e Air Italy. La questione della continuità territoriale è ormai incombente. La stagione turistica è arrivata e non si può procrastinare oltre ogni decisione in merito. Sul tavolo la difficile trattativa tra Air Italy e Alitalia per i voli da Olbia. E lo stesso Settimonizzi, sindaco di Olbia, ad esprimere la sua preoccupazione in merito. In una lettera avanza una richiesta. Chiediamo come cittadini olbiesi e come sardi che si faccia tutto il possibile affinché Alitalia rinunci all'intendimento di volare senza oneri da Olbia. Non possiamo in alcun modo permetterci di perdere Air Italy, ma soprattutto di perdere un notevole numero di lavoratori sardi che qui vivono e lavorano con le loro famiglie. Il sindaco sottolinea come la continuità territoriale aerea sia uno dei primi temi che Solinas ha affrontato dal suo insediamento come presidente della regione. Condividiamo dunque, scrive inizi, la preoccupazione su questo tema fondamentale per il nostro territorio e nello specifico per la città di Olbia, dove opera l'azienda che oggi si chiama Air Italy, ma che nei quasi 60 anni di attività nell'isola è passata per Meridiana e prima ancora per Alisarda. Si tratta di un pezzo di storia per la nostra regione ed in particolare per la nostra città e per il nostro territorio, dove la compagnia opera da così tanti anni, garantendo non solo un importante servizio per quanto concerne i trasporti, ma anche lavoro per moltissime famiglie. Il sindaco rimarca la coraggiosa scelta di Air Italy, che circa un mese fa ha annunciato la decisione di volare sulle due rotte da Olbia, Olbia-Roma-Fiumicino e Olbia-Milano-Linate, senza compensazione finanziaria. Dopo questa iniziativa, ancora più lodevole perché realizzata senza nessun tipo di supporto esterno, ma con il solo autonomo sforzo della stessa compagnia, adesso rischia di subire la forte concorrenza di Alitalia, un'altra società privata, la quale lo Stato ha già dato circa un miliardo di fondi pubblici. Nizia auspica quindi un forte intervento da parte della regione rispetto a questa istanza, la quale teniamo in maniera particolare come italiani, come sardi, ma soprattutto come olbiesi. E come sapete il governatore Cristian Solinas ha convocato per lunedì alle 15.30 Villa Devoto le parti. Insomma, chi dirige Air Italy e chi dirige Alitalia. Ma la compagnia Air Italy non ci sta, insomma, sostiene che questa non è una soluzione che va trovata tra le parti, ma deve intervenire lo Stato, proprio perché si tratta, quella di Alitalia, di una concorrenza sleale. Sentite che cosa ha scritto Air Italy proprio al governatore. Sulla questione Air Italy si innescano diverse questioni. Innanzitutto c'è la presa di posizione ufficiale di Air Italy che in un comunicato scrive senza mezzi termini la soluzione proposta dalla regione Sardegna e dal Ministero dei Trasporti non è una soluzione, è una farsa. Estendendo la vecchia continuità per Cagliari e Alghero e non per Olbia, si crea uno squilibrio ridicolo, in particolare rispetto alla diversa politica tarifaria. Dal 17 aprile ci sarà la tarifa unica su Alghero, mentre su Olbia varrà dal doppio al triplo della tariffa residenti. Alitalia sarà sia ad Alghero sia ad Olbia e potrà servire sia ai passeggeri con alta capacità di spesa su Olbia e indirizzare in alternativa gli altri su Alghero. Air Italy non può condividere questo schema e non condividerà il programma dei voli di Olbia con Alitalia. Dopo l'assegnazione della gara dall'Italia ci sono stati incontri sia con il Ministero sia con la regione Sardegna e spiace constatare che tutte le promesse fatte non abbiano portato a nulla. Air Italy ha deciso di volare da Olbia a Roma e da Olbia a Linate, come dichiarato in più occasioni, per proteggere il proprio personale di oltre 500 persone e l'investimento fatto negli ultimi 50 anni al servizio della Sardegna. Questa soluzione, conclude il comunicato, contiene elementi di forte ambiguità e spiace constatare che in definitiva sia la regione sia il Ministero abbiano scelto di non gestire la situazione, limitandosi ad invitare Air Italy e l'Italia ad incontrarsi e ad acconcordare una soluzione rispetto alle frequenze dei voli da Eperolbia. Ciò non solo, innanzitutto crea una situazione di incertezza estremamente dannosa per i passeggeri a pochi giorni dall'inizio dei voli con il nuovo regime, ma pone altresì Air Italy in una situazione di inaccettabile svantaggio competitivo, avendo all'Italia già venduto migliaia di biglietti per la stagione estiva, iniziando le vendite prima dell'aggiudicazione della definitiva e continuando a vendere anche dopo la dichiarazione del 12 marzo, con cui Air Italy accettava di operare senza compensazione. Intanto i lavoratori Air Italy si aggiungono a queste polemiche con un accurato comunicato stampa e scrivono Siamo i 550 dipendenti di Air Italy di Olbia, siamo le 550 famiglie di Olbia che hanno un reddito grazie ad Air Italy, siamo le 500 famiglie di Olbia che spendono il loro reddito nel territorio della Gallura, siamo i cittadini della regione Sardegna dove votiamo e paghiamo le tasse, siamo italiani e ne testimoniamo la bellezza con orgoglio grazie ai nostri voli. Come i nostri colleghi di Alitalia rivendichiamo il nostro diritto a mantenere il nostro posto di lavoro e rifiutiamo lo scontro di lavoratori contro lavoratori. La politica ha il compito di vigilare, tutelare e proteggere i propri cittadini e noi oggi non ci sentiamo tutelati né dal governo né dalla regione Sardegna. Bene, adesso vi raccontiamo un'altra vicenda che ha coinvolto il nostro capoluogo sardo. Pensate, l'ambasciata del Ruanda interviene proprio su un festival che è stato organizzato qui a Caglia. Perché? Perché andrà in scena stasera un film sul Ruanda, su quella strage che portò alla morte 800.000 Tuzzi. Bene, quel film non è piaciuto all'ambasciata ruandese che chiede alla fondazione, sia otto organizzatrice del festival, di non proiettarlo. Ma sentiamo cosa risponde il direttore artistico del festival. Polemica sul festival storia e musica della fondazione Siotton Festival che ha voluto ricordare le peggiori stragi degli ultimi due secoli. Da quella più efferata contro il popolo ebrea a quella del popolo bosniaco fino alla tragica uccisione degli 800.000 Tuzzi in Ruanda. Proprio su quest'ultima, che chiude il festival, si è innescata una dura polemica. Il direttore artistico Francesco Accardo ha deciso di ricordare quegli eventi con un film, Hotel Ruanda, uno dei pochi che descrive bene i fatti, così come furono avvenuti. Ma dall'ambasciata proprio il giorno prima della proiezione, arriva una dura lettera che condanna quella pellicola, invitando la fondazione a sospendere la proiezione. Non c'è solo l'ambasciata di Parigi a condannare la pellicola, ma tante altre associazioni e ONG, perché si dice che il protagonista del film, Paul Rusez Bagina, sia in realtà un impostore che non abbia mai salvato nessuno e che recentemente abbia fatto alcune uscite pubbliche di carattere negazionista legate agli avvenimenti di 25 anni fa. Tanto da far pendere su di lui un mandato di arresto internazionale da parte del governo del Ruanda. Scrive il direttore artistico in risposta a queste critiche, da parte della fondazione di ricerca Giuseppe Siotto, vi è solo l'intento e obbligo morale di raccontare i fatti accaduti nel 1994. Per questo motivo abbiamo voluto chiamare dei testimoni diretti, François Canquindi e Eric V. Babara, entrambi dell'associazione Bene Ruanda ONLUS. Essi stessi si sono dichiarati critici verso il film, ma hanno saputo contestualizzare la scelta, evidenziandolo come il film più importante realizzato sull'argomento, si segnala che il 28 novembre dello scorso anno la fondazione aveva inviato comunicazione ufficiale all'ambasciata del Ruanda, indicando il programma dettagliato dell'iniziativa. Si stupisce, scrive Francesco Accardo, che una simile comunicazione avvenga solamente il giorno prima della proiezione e ci si stupisce che questo avvenga verso un istituto culturale privato e non attraverso gli organi di governo italiani nelle sedi opportune. Dunque, poiché la fondazione Siotto fa parte di quegli istituti, per così dire, sotto il controllo del MIBAC, e poiché l'ambasciata del Ruanda ci chiede di evitarne la proiezione per i buoni rapporti che esistono tra l'Italia e del Ruanda, ha inviato richiesta di indicazioni al governo italiano tramite la prefettura di Cagliari e agli uffici del Ministero degli Esteri. Insomma, è stata messa in mezzo la diplomazia. Allo stato attuale, conclude il comunicato stampa di Francesco Accardo, la proiezione del film non verrà cancellata e sarà comunque data la possibilità ai relatori, in piena libertà, di contestualizzare fatti e protagonisti. I lavoratori della Metro entrano in sciopero il 19 aprile. Lo fanno perché l'azienda, la Metro, ha deciso di abbassare loro gli stipendi, chiedendo più impegno nel lavoro, ma anche più flessibilità. Contro questo ulteriore carico di lavoro, appunto, puntano i piedi i sindacati e hanno indetto uno sciopero di tutti i lavoratori. Pensate, in Sardegna sono 136 solo a Cagliari. Chiedono appunto che l'azienda riveda le condizioni e la qualità di vita di questi lavoratori. Ci fermiamo solo un attimo per una brevissima pausa pubblicitaria. Benvenuti in studio e adesso un nostro approfondimento sull'attività dei Lions che si sono incontrati, come lo fanno ogni anno, per parlare di progetti e programmi. Quest'anno l'appuntamento era a Monteclaro. Il Lions Club è una presenza indiscreta nel territorio regionale, nel Cagliaritano, in questa fattispecie. Domenica si radunano per tirare le somme del proprio operato. Questo è un appuntamento fisso per il Lions Club? Sì, in realtà noi ogni anno organizziamo una manifestazione a livello regionale nell'intento, da un lato, di tirare le somme su quelle che sono le attività che in un'annata sono state portate avanti e dall'altro cercare di dare un'informativa a tutto campo alla collettività, cercando peraltro di essere ulteriormente positivi, nel senso che oltre a dare spazio alle attività che portiamo avanti ordinariamente, sempre nel parco di Monteclaro a Cagliari, ci sarà una sezione specifica dedicata agli screening e i cittadini potranno fare una serie di visite specialistiche che vanno dall'oculistica, alla dermatologia, alla glaucoma, ce n'è per tutti in poche parole. È chiaro che il corpo dei medici è un corpo forte, ma non numericamente tale da poter dare riscontro a tutta la cittadinanza. Mediamente facciamo intorno alle 400-500 prestazioni, nell'arco della mattinata. Diciamo che quest'anno portiamo all'attenzione della collettività una serie di service in particolare che noi stanno molto a cuore. Uno è riferito alla povertà. I Lions, in maniera molto silenziosa, assolvono ad una funzione. Aiutano i nostri conterranei in difficoltà economica, li sostengono in termini alimentari, in termini non soltanto di derratti alimentari, ma anche gli aiutiamo nel vestiario e in tutte quelle piccole cose che consentono a questa collettività di stare decisamente meglio. Un'altra cosa che stiamo proseguendo a portare avanti è la raccolta dei medicinali non scaduti ed avremo al parco un box specifico per la raccolta degli stessi, box che sarà posto a fianco ad un'altra nostra iniziativa che è quella della raccolta degli occhiali usati che risistemiamo attraverso delle società che stanno in Alta Italia e poi ridistribuiamo nei paesi del terzo mondo, in modo particolare in Africa. Ecco, tracciamo un profilo del Lions Club. Allora, allo stato attuale i Club Lions qui in Sardegna sono 36 distribuiti su tutto il territorio regionale. Noi come organizzazione centrale abbiamo in capo ai singoli club alcuni service storici, definiamoli così, lasciando peraltro ai club libertà di sviluppare ulteriori service in modo particolare nel campo della cultura, nel campo dell'assistenza ai bambini, nel campo sociale molto interessante. che è quello di dare allegria, conforto alle persone che soffrono, con particolare riguardo a coloro che stanno ricoverati presso l'oncologico. A proposito di oncologico, voglio soltanto ricordare che noi abbiamo Casa Lions, è una struttura che si autosostiene con i proventi che derivano dalle donazioni dei Lions e siamo nelle condizioni di poter dare soggiorno a tutti quei pazienti che si reccano all'oncologico in dei hospital. e quindi li ospitiamo, li mettiamo a disposizione le cucine, hanno la possibilità di soggiornare assieme ad uno o più parenti. In poche parole, cerchiamo di semplificargli la vita in un momento del loro percorso non particolarmente felice. Ecco, per di più i Lions viene individuata come una seta irraggiuncibile. È proprio così? Ma sì, qualche volta capita anche a me di sentire di qualcuno che ci paragona ad alcune sette. Il problema è questo. Noi abbiamo l'abitudine di pubblicizzare poco quello che facciamo. La nostra pubblicità arriva da coloro che traggono giovamento dal nostro agire. I Club Lions sono aperti a tutti. È chiaro che quando uno si iscrive in un Club Lions si iscrive perché dentro di sé ha la volontà di mettersi a disposizione per alcune parti del proprio mese a favore di coloro che hanno bisogno del nostro aiuto. Ricordiamo l'appuntamento di domenica. L'appuntamento, ripeto, è domenica 14, domenica dalle Palme, presso il parco di Monteclaro in via Cadello a Cagliari. Prima dell'apertura del parco per la festa dei Lions verrà peraltro celebrata la Messa in maniera tale da poter consentire a tutti i Lions che partecipano all'iniziativa e a tutti i cittadini che volessero seguire la Messa di poter adempiere a questo passaggio. La Messa inizia alle 8.45 per terminare intorno alle 9.30, orario nel quale noi pensiamo di inaugurare l'evento i Lions nel territorio e quindi di poter aprire i nostri stand a tutti i cittadini. Il prossimo progetto importante dei Lions invece? Prossimo e importante, noi abbiamo un motto, il nostro motto è We Serve, ovvero noi serviamo. Noi siamo a disposizione di chi che sia che si trovi in uno stato di disagio. Fra le varie cose che vorremmo rafforzare è la nostra presenza a supporto dei non vedenti, consentendo a questi di poter avere la possibilità di uscire dalle strutture che di norma non consentono agli stessi ospiti di poter respirare quei profumi, quei rumori lontani nel tempo, ovvero una presenza con un service che di fatto è a costo zero. accompagnare un non vedente e trasferire allo stesso vecchi ricordi oppure nuove sensazioni. Assieme a questo noi stiamo curando anche i rapporti con coloro che purtroppo hanno delle inabilità fisiche e proprio il 14 abbiamo anche organizzato un triangolare di calcetto con delle squadre miste che vedono dei ragazzi normodottati con dei ragazzi parzialmente handicapati. La bellezza è vedere questi ragazzi che giocano, i ragazzi non si rendono conto delle differenze che ci sono dall'uno all'altro, si divertono e basta. Forse siamo noi persone adulte, tra virgolette, che dovremmo forse migliorare il nostro approccio nei confronti di questo segmento della popolazione e cercare di dare a mano a questi e contemporaneamente chiaramente dando una mano anche alle famiglie che si caricano tutto all'onere della gestione di questi giovani. E' il caso di dire in conclusione grazie di esistere? Ma grazie. Io credo che il genere umano sia costituito da persone buone. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di avvicinarsi a Lions e di lavorare per la causa collettiva. Altri vanno sollecitati. Io credo che se ci sarà una vera sollecitazione, il numero delle persone che si adopereranno per il prossimo dovrebbe aumentare considerevolmente. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione. Ritorna Logos de Logu, il nostro magazine in limba sarda condotto da Enrico Puzzoli. Su Telecosta Smeralda ritorna Enrico Puzzoli con il suo Logos de Logu. Una trasmissione che vuole raccontarci, raccontare la Sardegna di oggi, come si è trasformata del tempo ma con la sua lingua originale, salimba sarda. Enrico è un sapiente conduttore in lingua sarda. Ecco, allora raccontaci Enrico, su cosa avverterà questo nuovo ciclo? Grazie Alessandra, hai detto praticamente tutto tu. La trasmissione vuole raccontare la Sardegna e i sardi di oggi, nella sua lingua di ieri, di oggi, speriamo di domani. Ed è uno strumento anche per stimolare il dibattito linguistico sulla lingua sarda. Abbiamo cambiato un attimino la veste, devo ringraziare tutta la squadra di Telecosta Smeralda per il bellissimo lavoro nel quale mi hanno coinvolto, nel quale ci coinvolgiamo a vicenda. I temi saranno per sap poco gli stessi, però insomma con una nuova veste un attimino più fresca, un attimino più dinamica, speriamo che piacerà ai teri spettatori. Ecco, non è facilissimo condurre una trasmissione interamente in limba, anche perché non tutto può essere tradotto facilmente, a volte c'è dello studio dietro, per capire come trasformare delle parole di oggi in quella che è una lingua che voleva essere del passato ma ora non lo è più. No, assolutamente, noi cerchiamo di rivoltare l'oggetto e di dare un altro punto di vista sul sardo. Infatti è troppo spesso rilegata a questioni folcloristiche che le danno un'immagine un po' stantia. Noi vogliamo un po' dissacrare, cercando di rispettare comunque, c'è tanto studio dietro. E insomma cerchiamo di riuscire e speriamo anche di divertirvi, insomma, di dare un po' un'atmosfera di freschezza sul sardo. Diamo subito gli appuntamenti. Si parte questo sabato 13 alle 20.30 su Telecosta Smeralda. Alla prima puntata penso che sarà molto fresca, ci proviamo. Parleremo di musica rap con un ragazzo che ha la nostra stessa ambizione, usare il sardo in una maniera fresca, in una maniera moderna per veicolare qualsiasi tipo di tematica. Senti, vogliamo fare l'annuncio interamente in limba sarda? E' davvero tutto per il momento. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento, come di consueto, alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.